Cordiale buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia in studio Andrea Biagioni. Partiamo con la 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze e Scandiccio e il Bivio con la variante del Valico e rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione Bologna. Rallentamenti anche tra Val di Chiana e Monte San Savino sempre in direzione Bologna. Sulla statale 1 Aurelia scambio di carreggiata a causa di lavori tra Fonte Blanda e Montiano in direzione Grosseto. Treni l'Intercity 35 33 3 diretto da Milano a Grosseto viaggia con 34 minuti di ritardo ferma a Pisa alle 12.57. E chiudiamo con il traffico aereo il volo Ryanair diretto da Madrid a Pisa con arrivo a Pisa previsto per le 12.05 atterrerà alle 12.35. Muoversi in Toscana Infa realizzata in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!